Per i miei amici appassionati, ciao da Elvio, siamo al Brugherio Bike Fest e questa è la terza edizione. Cosa dirvi? Ci siamo anche noi di Moto Argento con le nostre Hypermoto, e guarda che spettacolo. Un consiglio? Venite a trovarci, sapete perché? È il momento giusto per trovare la vostra nuova Hypermoto. La motivazione è semplice, è il momento in cui ne abbiamo di più, quindi potete scegliere la migliore Hypermoto per voi. E allora vi aspetto anche solo per un caffè senza impegno a scegliere la migliore Hypermoto che c'è per voi, che ve lo dico a fare. Poi vedo qua che c'è anche il nostro amico Davide che... Per forza, ragazzi, d'inverno dovete sapere che... Cosa dobbiamo sapere? Cosa dobbiamo sapere? Dobbiamo sapere che la moto magari sta un po' più ferma per il freddo e anche tra virgolette mezzo pericoloso uscire e potrebbe essere un momento non bello ma meraviglioso per fare le vostre elaborazioni, ok? È il momento migliore perché dai, non vi rubo la moto per troppo tempo, voi non la potete usare e io vi faccio montare della roba che è non top ma di più. Quindi non ve lo dico due volte, va bene? Anche per la manutenzione, quindi se volete conservare la moto nel migliore dei modi in assoluto, lo fate prima della stagione così a inizio stagione prossima ce l'avete lì pronta all'utilizzo. Quindi perché non farlo ora? Guardate che meraviglia. Qual è l'unico problema che hanno queste moto? È che mi dovete chiamare per preparare, quello è il loro problema, cioè se non mi chiamate la moto rimane di serie, la moto di serie ragazzi, dai, non va bene, dovete renderla più personale, più tua. Mi raccomando, l'unico problema vero di queste moto è che ancora non le avete comprate. Allora, ciao, ciao! Sono Ciao Ciao Grazie a tutti.